Ancora cani uccisi dai lupi, l'ultimo episodio è accaduto questa mattina intorno alle 7 in via Turlo a Monbaroccio. Raccontarci quanto successo è stata Nicoletta Formica. Avevamo fatto uscire i cani nel nostro giardino per i bisogni, ha detto, quando ad un certo punto mio padre, che abita al piano terra, ha sentito uno di loro piangere, è uscito di casa e ha visto che un lupo teneva in bocca il nostro Jack Russell di appena un anno e del peso di circa 7 kg. L'animale selvatico si è allontanato di 500 metri e poi lo ha lasciato, ma il branco, ha spiegato Nicoletta, era composto da 8 lupi. Probabilmente il cagnolino, avendoli visti passare, potrebbe aver tentato di difendere il territorio e a causa dei lavori al cancello il passaggio era aperto. Purtroppo per il Jack Russell, che aveva un buco allo stomaco, non c'è stato nulla da fare.